Lo sviluppo del territorio e l'afflusso turistico per raggiungere le mete più ambite della valle del Volturno passano per le infrastrutture e in primis per le strade. Purtroppo per raggiungere l'abbazia di San Vincenzo a Volturno e l'area archeologica, dopo anni e anni di battaglie e di proteste, ancora sussistono difficoltà evidenti. La prima è quella riguardante la condizione della via abbazia, strada comunale ricadente nei territori dei comuni Rocchetta a Volturno e Castel San Vincenzo. Una porta d'accesso davvero non adeguata per la grande mole di turisti che annualmente si rega a visitare l'abbazia di San Vincenzo a Volturno e la parte archeologica dello scavo. Si tratta di uno dei complessi monastici più importanti d'Europa, dove purtroppo mancano da sempre, chi conosce quelle zone lo sa davvero molto bene, servizi annessi per i turisti. Ora anche le condizioni della strada che conduce al complesso lasciano davvero perplessi. Avvallamenti, buche e spasi angusti nei quali gli automobilisti devono divincolarsi con grande difficoltà. Da più parte è stata chiesta una messa in sicurezza dell'arteria, che parte poco fuori il centro abitato di Rocchetta a Volturno e termina più o meno in direzione di Castel San Vincenzo, salendo verso la zona del lago. Fondi non ce ne sono e il turismo stenta a decollare. Di quale l'Irancio si parla se la porta d'accesso principale al sito storico è completamente inadeguata?